Come sapete è lo stop imposto dalla presenza nel Covid, nella squadra, nel gruppo squadra della Pescara, ma anche nel team. E adesso le novità. Prima i risultati dei nuovi tamponi previsti nella giornata di oggi, poi dovrebbe arrivare la decisione della ASL che potrebbe modificare il provvedimento che vieta i biancazzurri attualmente di svolgere elementi collettivi di vieto che vige fino a lunedì. Solo dopo aver analizzato i tamponi di oggi, la ASL deciderà se consentire o meno ai biancazzurri negativi al Covid di potersi allenare in gruppo. Ieri la Pescara ha formulato questa richiesta, appunto in tale direzione, che però al momento non è stata ancora accettata. Evidentemente se ne potrà riparlare dopo il risultato dei test di oggi. Tra gli otto contagiati ce ne sono due che a distanza di poche ore sono risultati prima negativi e poi di nuovo positivi al Covid. Dunque la situazione sarà chiarita con i tamponi di oggi anche se dicono i medici non c'è motivo di preoccupazione perché i test discordanti testimoniano comunque la riduzione della carica virale anche dei positivi. La società dunque spera di ottenere l'ok dall'ASL per scongiurare il rischio di dover affrontare l'Entella martedì all'Adriatico alle 14 senza aver svolto nemmeno un allenamento di gruppo.